Manca poco alla sfida tra Bari e Livorno e a fare scalpore e soprattutto la scelta degli ultras che hanno confermato lo sciopero del tifo nei primi 45 minuti. Una protesta pacifica contro il daspo di gruppo, emesso nei confronti di 52 tifosi biancorossi dopo gli incidenti provocati nella trasferta di Frosinone. Sul fronte sportivo intanto, Mister Mangia medita, ma è ormai una certezza, il modulo 4-3-3 dal primo minuto. Un'esigenza tattica dettata dall'emergenza in attacco, con Ciccio Caputo ancora out per squalifica. Io sono convinto che la squadra, dal punto di vista della condizione, abbiamo fatto anche dei test in settimana e vi assicuro che la squadra sta bene, molto bene dal punto di vista fisico. È normale che nella mia valutazione pesano dei fatti che per me vanno visti come oggettivi e tutti, secondo me, dovrebbero vederli come oggettivi perché la partita col Perugia fa testo 50 minuti, perché poi quando giochi in 9 per 40 minuti, 35 minuti, non è più un discorso atletico, è un discorso che si corre a vuoto per una questione numerica o si deve fare delle corsi in più per una questione numerica. Quella con il Livorno sarà una gara tutta speciale per l'allenatore Granata Carmine Gautieri, un grande ex del Bari, prima come calciatore e poi, sia pur per un solo mese, come allenatore nel 2013. Sono tutte partite difficili, ma noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e capire e pensare che abbiamo un margine di miglioramento, ma soprattutto possiamo toglierci grandissime soddisfazioni.